Sì, grazie Presidente. Io sinceramente vedo che si fa un po' di confusione su questo tema, lo ha fatto sicuramente la consigliera Montella, che parla di vetro venduto meglio. In realtà qui parliamo di vuoto a rendere, per cui il vetro non viene venduto, viene riempito di nuovo per essere riutilizzato. Io ricordo perfettamente l'atto che presentò Fratelli d'Italia a suo tempo, perché anche in quel caso intervenne io a suo tempo, non dicemmo che la dovevamo fare noi. Sicuramente diciamo un'altra cosa, che il sistema del vuoto a rendere è un sistema molto articolato e complesso. Di certo non sono le macchinette che recuperano il vetro a essere il centro del funzionamento di tutto quanto il sistema, ma sono delle imprese che lavano le bottiglie per poterle essere riutilizzate. Attività che devono fare le imprese private per far sì di riprendere loro stessi i loro contenitori e poterli riempire di nuovo. È un sistema articolato e complesso, purtroppo il sistema economico è andato in una direzione che ha abbattuto i costi per l'utilizzo del vetro nuovo piuttosto del lavaggio della bottiglia. Ecco, noi dovremmo fare un lavoro diverso di poter incentivare la possibilità per le imprese di lavare i loro vuoti per poterli riutilizzare di nuovo. È molto articolato, tante volte addirittura le macchinette non funzionano quelle per il recupero delle bottiglie, ma bisogna farlo in modo manuale per far sì che si prenda la bottiglia vuota e venga data la bottiglia piena. Dunque, per la modalità, come è stato scritto, è visto che non fa proprio centro su una cosa importante che in realtà a noi piacerebbe poter sviluppare questo tema, ma abbiamo avuto sicuramente in questi anni difficoltà a poterlo articolare, tanto perché devono essere coinvolte necessariamente le società private che poi devono attivare questo meccanismo di lavaggio delle bottiglie. Pertanto, per la modalità, come è stato scritto, noi voteremo contrario a questo ordine al giorno.